di una ristrutturazione dei debiti e ci vorrebbe appunto una conferenza però questa cosa si può immaginare Ciao, sono Gian Paolo Bernasconi parlo da Falofio Comun oggi è il 12 giulio 2015 e voglio solo dire qualcosa sulle tradizioni civiche in Italia e la situazione religiosa in Italia da un punto di vista dell'analisi del nord di Italia contro del sud di Italia abbiamo qui un libro molto buon questo libro è stato pubblicato nel 1993 in USA e in Italia e in tutto il mondo e questo libro ha fatto un'analisi della differenza tra il sud di Italia e il nord di Italia la differenza principale è che il sud di Italia ha una tradizione civica tradizione civica e una ristruttura religiosa una ristruttura cattolica e cristiana ristruttura più collegata con il nord il nord quindi la Tunisia e la Libia e l'Algeria e l'Egypte e così via non è linkato con il nord dell'Europa in paesi come Germania Francia e Padaia o il nord di Italia in effetti come scritto da Carlo Quigley in Tragedia d'Op il centro del mondo dell'Europa il centro del mondo dell'Europa è la Francia e la Germania quando ha scritto il libro nel 1960 ha parlato dell'Europa 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 quindi possiamo dire che il cuore della civilizazione è France Germania l'Inglanta e l'Italia quindi il problema non è il clivaggio è la religione è la religione della religione against Islamism, against Hinduism, against Buddhism and against all the other religions. So the main problem today is the religious privilege and this religious privilege is linked with the north of Europe where the Protestants, the Catholic Protestants are the majority. So if you read this book you can understand that today the problem is not Greece. Greece is linked with Russia, is linked with the Orthodox Church in Moscow. Greece perhaps will be bring out from the European community because it is not a Catholic zone and Greece will be a default of Greece. But the main problem is not Greece, the main problem in the south of Italy is Sicily, is Calabria, is Basilicata, is Campania, is Molise, is Sardinia and so is all of the zone of the south of Italy who has a public debt with the public debt of the south of Italy is not divided by the public debt of the north of Italy. So the main problem now in for for the zone of Como, Milano, Ferrara, Venezia, Cugno and so on is the south of Italy and not the Greece. Okay thank you very much indeed. Bye! Bye!